Senta, fine mandato, pensa di tornare a fare politica in Italia? No, guardi, da un punto di vista della mia serenità personale in questo momento non sto pensando assolutamente a questo. Cerco di fare al meglio il mio lavoro, di svolgere il mio mandato e da grande voglio essere più Luigi e meno Di Maio. Grazie Luigi Di Maio in bocca al lupo per la sua attività.